Abbracciati ed insieme come nella foto che Marika aveva postato sulla sua pagina Facebook dove ad accrescere il dolore per una morte improvvisa, tragica, fatale, c'è la surreale circostanza che è avvenuta proprio nel giorno in cui la giovane Sarta avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno. La tragedia è racchiusa proprio in quella pagina di Facebook in cui i messaggi di auguri improvvisamente si bloccano per il dolore, il lutto, per una festa che non c'è stata. Così insieme oggi anche per l'ultimo giorno per l'addio alle 17 nella chiesa di Santa Maria della Speranza a Battipaglia i due fidanzatini verranno salutati per l'ultimo addio dopo l'incidente avvenuto in sella alla potente moto Yamaha Blue di Pierpaolo che ne ha spezzato le vite per sempre. È stato acquisito agli atti dell'inchiesta della procura di Salerno che con i carabinieri della compagnia di Battipaglia deve fare luce sull'incidente. Il filmato registrato dalle telecamere di video sorveglianza dell'impianto che appartiene all'amministrazione comunale di Bellizzi e che ha registrato l'intera sequenza e la dinamica della tragedia che è costata la vita a Marica Capacchione 22 anni e al fidanzato Pierpaolo De Martino 26. Il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe prova su un foglio a spiegare la dinamica in base alla quale si vede chiaramente un'auto che si ferma in sosta nei pressi del bar. Una seconda vettura che svolta a sinistra in direzione contraria alla moto che a velocità sostenuta sopraggiunge scendendo da Monte Corvino Rovella e che probabilmente sorpresa dall'auto che svolta sbanda e cade non lasciando scampo nell'impatto a Marica che è morta di colpo mentre Pierpaolo si è spento dopo essere stato accompagnato in ospedale a causa di un'emoragia interna. Il ragazzo anche reagito nel momento dell'incidente ha provato ad alzarsi a guardare in direzione di Marica per capire cosa fosse successo. Nell'ambito dell'inchiesta la conducente dell'auto che svolte al momento iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo, un atto dovuto per consentire alla magistratura di porre in essere gli accertamenti teccanici dovuti.